Elisa Quairolo comincia il Mondiale. Eh sì, ci siamo, mancano due giorni, siamo pronte, cariche, non vediamo l'ora di iniziare. Che sette rosa dobbiamo attenderci dopo i sesti posti delle ultime edizioni, ma anche l'argento di War League? Credo che abbiamo lavorato molto bene in questa preparazione, come si è visto nella War League e come si è visto anche nei tornei. Siamo state molto brave, presenti, abbiamo migliorato in toto, nel senso nel gruppo, nel gioco e quindi secondo me è un buon sette rosa. Cioè io mi aspetto di giocarmi il podio, quindi spero di sorprendere gli spettatori con tutte le mie compagne e spero che possa essere un buon mondiale. Le nuove regole dopo l'antipasso di Europa Cup, la War League, ormai il sette rosa si è adattato? E gli arbitri? Noi ci siamo adattate, anche perché comunque abbiamo fatto tante partite e ci hanno permesso di migliorare tutto quanto, nel senso che l'automatismo su alcune regole, adattarsi a chiudere presto, non prendere strappate, comunque sfruttare il vantaggio. Gli arbitri secondo me, come noi, hanno fatto un po' di partite e spero che si siano adattati anche loro, vedremo. Comunque è sempre un punto di domanda perché secondo me hanno arbitrato in modo diverso ogni evento che abbiamo fatto finora, quindi vedremo.